Facendo qualche ricerca abbiamo chiarito l'arcano. Si tratta di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma EMPI di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013. Il programma EMPI Italia-Tunisia 2007-2013 è stato un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dello strumento di vicinato e partenariato e prevedeva diverse azioni a cui hanno aderito diversi partner privati ed istituzioni fra cui anche il libero consorzio comunale che riuscì ad inserire il percorso su strada provinciale per incentivare il cicloturismo. Ma cosa è stato realizzato come opera infrastrutturale? Niente se si esclude un paio di indicazioni stradali seminate lungo i circa 40 chilometri di una strada che collega il capologo con la nota metaturistica. Un'arteria stradale in vero assai pericolosa già per gli automobilisti figuriamoci per i ciclisti. Un percorso non illuminato per lunghi tratti, pericoloso per le condizioni del manto stradale e chiaramente non dotato di apposita carreggiata per i ciclisti. L'anomalo percorso ciclabile ha visto più volte turisti a toni di fermarsi per chiedere informazioni che nessuno è mai riuscito a fornire. Misteri di una terra che ha sempre più difficoltà a cogliere l'opportunità di sviluppo anche laddove per vocazione naturale dovrebbe essere agevolata.